Che cazzo? Che cosa è successo? Perché le sfere sono diventate di pietra? Che cazzo è successo qui? Ma che cazzo sta succedendo? Dai, ditemi cazzo. Dani, dici qualcosa. Che cosa è successo qui? Che cazzo è successo? Te lo spiego io, Vincenzo. Dai, sbriga di cazzo. In pratica, il vecchio è morto. Il vecchio cicciorre, l'artoso, appeso. Credo l'abbia preso al culo dagli uglioni, non so. E ha morto, pietrificato, insieme alle sue sfere di sperma, l'avessero caduto ora. Ma che cazzo? Io avevo sentito che chiunque prendesse lo sperma di quel bastardo diventava invincibile. Io volevo diventare invincibile. Dimmi, che cazzo ti piangi? Non è vero, non è vero, che cazzo ti piangi? Che cazzo ti piangi, brutto stronzo, tu cazzo. Che cazzo vi guardate? Ed è qui da tre ore, io devo diventare invincibile. Ero venuto qui apposta. E voi, tante lì a guardare, non fare un cazzo, siete inutili. Che cazzo vi guardate? Adesso vi faccio vedere io. No, no, no. Che buono. Che cazzo? Che quello è? È un bene. E' un bene. Piseri mortali, che mi paragonate a un bene. Ma come vi permettevi, io sono Freezer, il più forte dell'universo. Ebbene, sì, sono stato io a uccidere quel ciccione obeso penetrandolo con il mio pene. Ah, che vuoi? Non conosci la storia, vero? Ho succhiato tutto, mi è entrato pieno al fegato. Ho scusato i poteri fenomenali, che solo non vi potete neanche immaginare. Ah, ma io non ci credo. Non ci credi? Non ci credi? Ma che cazzo dici? Te lo farò vedere io. La pagherai per questo. L'hai detto, cazzo. Oh, no, merda. Vi ucciderò tutti, perché farò io acquistato questo potere. E vi disintegrerò come il pene di Junior.